Un altro buon test amichevole per l'Aglianese, Serie D, che dopo il successo ottenuto contro la Pistoiese, nel weekend è riuscita a pareggiare anche con il Ponte d'Era, squadra di Serie C. Si è trattato di una gara neppure troppo amichevole vista l'animosità dei giocatori in campo. Gara intensa e godibile quindi che ha evidenziato come i nero-verdi di Mr. Fanani siano già a buon punto della preparazione. Per la cronaca, per quello che può contare il risultato di questi tempi, il match è terminato sullo 0-0. Mr. Pacifico Fanani, partita vera con il Ponte d'Era, molto intensa, 1-0-0 che comunque ti lascia soddisfatto? Sì, è stata una partita un buon allenamento, diciamo, si sta continuando nella crescita del gruppo, della squadra, dell'organizzazione, abbiamo bisogno di buttar dentro minuti e quindi oggi è stata una buona prova tutto sommato, ho visto delle cose interessanti, altre cose da migliorare, però tutto sommato sta andando secondo programma. Il risultato non conta, però continua a rimanere imbattuto. No, lasciamo stare il risultato. Quello che mi interessa ora è vedere le cose come si sta in campo, quello che si propone, come ci difendiamo, come affrontiamo le situazioni di difficoltà. Questa è la cosa fondamentale. Quello che mi interessa veramente ora è l'atteggiamento della squadra, interfacciarsi bene di fronte alle difficoltà e qualcosa di positivo si sta proponendo anche in fase offensiva. Però chiaramente siamo sempre all'inizio, il calcio d'agosto va preso come calcio d'agosto.